Al via i lavori per la rimozione delle due grandi camere COC che per lunghissimo tempo hanno stazionato nell'area portuale di Gela deturpando gravemente il panorama dal primo giorno del suo insediamento il comandante della Capitaneria di Porto Pietro Carosia ha lavorato affinché arrivasse prima possibile questo giorno come lui stesso ha dichiarato ai nostri microfoni. Questo è un target che mi ero prefissato già a settembre del 2014 in quanto mi ricordo perfettamente la prima volta che sono entrato a Gela vedere questi due cilindri che non sapevo a che cosa servissero sinceramente ma è un pugno nell'occhio per la nostra bella città e quindi abbiamo iniziato subito a lavorare per fare in modo che riacquistare un bel paesaggio. Naturalmente in tutto questo devo ringraziare sia l'amministrazione comunale passata, in particolar modo una persona che stimo tantissimo a livello personale l'ex sindaco Fasulo e poi ovviamente anche l'attuale amministrazione comunale. Le camere COC nei quattro pezzi in cui sono state separate dall'impresa Gradito che è un'impresa locale che devo dire ha lavorato fino adesso benissimo a cui devo fare i miei complimenti, lasceranno il porto nelle prime ore della mattina, già a iniziare tra questa notte e domani mattina per dirigersi all'interno della raffineria. È un obiettivo importante perché fa parte di diversi target che mi ero prefissato a iniziare dai rimorchiatori perché quando sono arrivato c'è stato un grosso problema con i rimorchiatori qua in porto, il servizio disinquinamento in quanto purtroppo l'eureico ci ha lasciato, ma spero che la prossima intervista che faremo sarà per il nostro bel porto e parlo del porto che tutti chiamano rifugio ma che per me è il porto di Gela e poter fare un'intervista quando ci saranno già le draghe in porto per scavare tutto il nostro porto e portarlo a meno quota 4. Non stiamo lasciando passare il tempo inoperoso, vale a dire che continuiamo sempre a fare pressioni sulla protezione civile che sta appaltando i lavori per 5.800.000 euro, ricordo. L'obiettivo è quello di entro i primi ottobre, novembre al massimo avere già le draghe in porto per poter iniziare i lavori di dragaggio e quindi l'estate prossima poter vedere già i primi risultati.